Che devo fare il venditore angolante di Pentole? Pentole! Allora... Ok, dove faccio? Allora... Ciao, mi chiamo Luca... Ma mi vedo dentro lì? Ok, i miei amici mi chiamano Polla... C'è un aneddoto mulesco che vuoi condividere? Vabbè, c'è sicuramente... Non lo so, ce ne sono tanti... L'aneddoto del legnone probabilmente è quello più famoso che mi vede partecipe... E non penso ci sia bisogno di raccontarlo un'ennesima volta... E devo imitare il verso del piccione... Andiamo a spostare le collette... Andiamo a spostare le collette... Stando... 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 In 148...